Siamo arrivati all'Italia come il miglior giocatore della Liga Summer. Ti senti pressione? Non mi senti pressione. Penso che volevo venire e venire meglio nel volleyball. E' quello che ho cercato di fare. Dopo un tempo in l'Italian Championship, qual'è la tua idea su Super Lega? Sì, è davvero buono. Mi piace giocare in l'Italian Liga e credo che sia molto forte. E credo che sarà migliorare in quanto i anni continuano. E' molto felice per giocare qui. In questo mese hai trovato qualche difficoltà nella tua esperienza italiana? È abbastanza facile per me vivere qui. Ho un buon team e molte persone parlano inglese. Che mi rende più facile per me. E' felice che è stato facile da vivere negli U.S. a qui. Come vivi in Verona? Mi piace molto. E' una bella città. E' una bella città in Italia. E' una bella città in Italia. E' felice. E' felice. Ma è difficile per me. E ho Simone Zanni e Sam De Rue. E tutti i ragazzi sono i miei professori. Ma i ragazzi sono anche in inglese. Quindi sono i miei professori inglese. E' un percorso di chi ha anche e anche i ragazzi. E' un piatto preferito. E' un piatto italiano? Io penso che spaghetti ragu. E' un piatto italiano? E' un piatto naturale. E cosa crede? E' un piatto più vero. E' un piatto vero, ma non ho un'idea. giochiamo forti e giochiamo come squadra e credo che sia il clave per il nostro successo. Puoi dire qualcosa su questo match per il Sunday con Perugia? Sì, sarà un match davvero buon. Ci hanno giocato un'altra volta questo anno, quindi vogliamo ottenere un gioco contro loro e credo che sia un match molto importante per le standi e quindi è qualcosa che abbiamo bisogno di vincere. Hai guardato il Super Bowl? Cosa pensi del finito? Sì, ho guardato, è stato uno dei ragazzini più giocati in storia della storia di Super Bowl quindi è stato davvero bello vedere questo a 1 in mattina qui quindi è bello vedere qualche più americano. Sei in contatto con i uomini e i uomini in Italia? No, non tanto, un paio di ragazzini, ma è difficile con i nostri giorni. U.S. national team won gold medal. Man team was out of podium. Generalmente, come women, volleyball team is more famous. Sei un po' jealous about that? No, I mean, the women's team is very good and we respect them and I think that they deserve, you know, all the attention and so, you know, hopefully we can steal that away from them but, of course, I'm not jealous. Ok, thank you. Thank you. Thank you.